Ciao ragazzi, sono sempre io la vostra Clarisse e oggi farò la recensione di un'altra doppiatrice italiana e sto parlando di Rossella Acerbo, che è doppiatrice, attrice, attrice, direttrice del doppiaggio e dialogalista italiana Ella cominciò la sua carriera prestando già da bambina la voce di Drew Bertimur in ET, l'extraterrestre ed è sorella del doppiatore Alessandro Acerbo e dell'ex doppiatore Maurizio Ancidoni Ella è cugina dei doppiatori Fabrizio Massimiliano Manfredi E fu riconosciuta, ha vinto vari premi dal festival del doppiaggio delle voci nell'ombra nell'anno 2000 come miglior voce caratteristica categoria televisione e il premio Ferruccio Amendola al gran calà del doppiaggio Rosmix del 2017 ha prestato voce a Drew Bertimur già da bambina in ET poi 50 volte il primo bacio, i ragazzi della mia vita Duplex un appuntamento a 3, Charlie Angels e Charlie Angels 2 Charlie Angels più che mai e poi Amore mille miglia e poi ha prestato la voce anche a Reese Witherspoon in Crew Intention Prima regola non innamorarsi e American Peace Psycho e ha prestato pure voce a Michelle Rodriguez nella serie Fast and Furious se voi avete visto il film nelle serie TV ha prestato anche voce sempre a Reese Witherspoon, Bigger Little Lies piccole e grandi bugie e anche nelle soap opera, nelle tele novelle Sherry Searson, La stagione del cuore e anche in film di animazione come ad esempio Cruz Ramirez in Cars 3 e anche nel videogioco Cars 3 in gara per la vittoria bene ragazzi spero che questa recensione vi sia piaciuta è durato un bel po' un bel po' se voi avete visto un film con questa grande doppiatrice che è fantastica, è top ha una voce magnifica nel doppiare queste grandissime attrici se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e scrivetemi qualche commento qua sotto e ci vediamo lunedì o mercoledì con la prossima recensione di un altro doppiatore o doppiatrice italiana ciao da Clarissa ciao 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 Grazie a tutti.